Allora, permesso che bella infegredita la politica, io brucerò il certificato elettorale ufficialmente il giorno delle votazioni. Comunque, parliamo di Rimini e parliamo del significato di questo video. Allora, praticamente, è venuto Bonaccini qui a visitare la città, in zona qua, come si chiama lì, al Palacongressi, dove ci sono gli uffici vaccinali, e si è parlato delle elezioni. Noi ora abbiamo Emma Petitti e Shegeval. Per chi non conoscesse Rimini, è praticamente l'assistente, il braccio destro di Gnassi, dell'ex vecchio sindaco. Ma il PD è spaccato, perché c'è una componente legata a Italia Viva, progressista, anche all'interno della Giunta. E' una componente, invece, ancora legata alle logiche più tradizionaliste, dei valori di sinistra, PC, e quindi che si oppone completamente alle politiche ignassiane. Quindi il PD è spaccato. Poi dopo è anche vero che, paragonare poi la situazione di Rimini a Riccione e Bellaria, dove poi si è imposta al centro-destra, cioè non lo so, perché in realtà Rimini è una città più grande. Anche se però questo sindaco, che tutti celebrano, mi permettiate di dire, ha rovinato la viabilità. Io non so chi è stato, non penso che sia colpa sua, penso che sia stato un tecnico, io non so. Io come faccio da via Roma a metterci due ore per arrivare al lungomare? Ditemi come faccio, ditemelo, ditemelo. I sapientoni, avete bloccato tutto il lungomare pedonalizzandolo? Se mi eleggete sindaco io metto le macchine sul lungomare, vuoi vedere che mi eleggono?